Buonasera a tutti e bentornati al TG di AC Milan Inside. Il Milan ha fatto ufficialmente un'offerta per Rabiot. Qualche video fa vi avevamo anticipato di quanto sarebbe stata l'offerta, ovvero 7 milioni più un contratto triennale. Ebbene, è proprio questa l'offerta fatta al giocatore. Secondo voi accetterà? Passiamo a un altro nome già noto all'interno del mercato del Milan, ovvero Fofanà. Il Milan avrebbe proposto 18 milioni, mentre invece il Monaco ne vorrebbe 25. Ovviamente attendiamo sviluppi anche su questa trattativa. Non arrivano notizie positive per quanto riguarda invece l'argomento Zirze, dove il Manchester United sembra essere in netto vantaggio. Il Milan ovviamente non ha rinunciato al calciatore e questa settimana potrebbe essere la settimana decisiva per una svolta. Come ultimo argomento vorrei parlare con voi per quanto riguarda le nuove maglie del Milan per la prossima stagione. Perché sì, proprio oggi sono state spoilerate la seconda e la terza maglia. Non le avete ancora viste? Ebbene, questa potrebbe essere l'occasione per seguirci su tutti quanti i nostri social. Ovviamente poi fateci sapere tra i commenti che cosa ne pensate e se le due magliette vi piacciono oppure no.